Nel Vangelo di oggi, 15 novembre, Gesù racconta la guarigione di dieci lebrosi. Un miracolo importantissimo se si comprende la gravità della malattia e la condizione del malato di lebra, un escluso dalla comunità e quindi uno morto vivente. Leggiamo però la pagina del Vangelo per comprenderne qualcosa in più. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro, andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce. E si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò, non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Chi conosce le regole del tempo sa che per essere reintegrato nella comunità e tornare nella propria famiglia occorreva un certificato. Noi oggi lo chiameremmo certificato medico. Ma occorreva un certificato dei responsabili, dei capi del tempio, che ne accertassero la guarigione. Perché se il lebroso, non guarito, veniva trovato a contatto con qualcuno della famiglia, poteva essere anche lapidato. Quindi Gesù dice, andate dai sacerdoti, perché certifichino la guarigione. Uno torna indietro. In realtà questo uno disobbedisce al comando di Gesù. Però questo uno ritorna per lodare Dio. Perché capisce che quella persona che lo ha guarito non è un medico normale. Quella persona riconosce che nella parola di quell'uomo c'è la parola potente e salvatrice di Dio. E nella mano di quell'uomo c'è la mano potente e salvatrice di Dio. Ora io vi lascio con una domanda. Quanto il Signore è glorificato dalla vostra vita e dai vostri comportamenti.